Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video della Sky Adventure Ragazzotti, oggi andremo ad affrontare un boss potentissimo O perlomeno ci proveremo E non è sicuro che ci riusciremo Ma non per il fatto che è potentissimo il boss Ma che potrebbe già essere impossibile da trovare l'isola E con calma vi spiegherò il perché Intanto, piccolo aggiornamento Ho messo la spada, l'ho fatto al tier draconiche Quindi ora fa 106 di danno 106 Abbiamo ancora l'arco base, tutto normale Insomma, c'è base mica tanto perché è tutto uppato ma non l'ho modificato E l'armatura ragazzi non l'ho incantata alla fine Prima cosa, ho finito i livelli Seconda cosa, se l'armatura la metto nell'Enchanting Table Praticamente non fa nulla Quindi ho dovuto utilizzare altri tipi di armature Tipo questa qua Le ho incantate E nulla, levarci il livello con l'Easy Encounter È una cosa troppo, troppo costosa E quindi ho finito i livelli Ma ragazzi c'è anche un modo per farmarli molto velocemente Per questo siamo qui vicino al portale del Nether Andiamoci Oh, scemi Cazzo mi picchiano così Allora, andato guardate quanti drop che ci sono per terra ragazzi E perché appunto off camera ho testato una cosettina Allora, in questo momento sono spawnati anche pochissimi zombie Quindi è un caso che ce ne sono così pochi In genere sono molti, molti di più Allora, i pipistrelli e queste cosettine qui hanno veramente rotto Basta Via, via Ok ragazzi, guardate Sono 10.000 mob Un colpo E abbiamo fatto 20 livelli Ragazzi, un colpo Vabbè ok, alcuni sono preso Oh, ma basta sti ghast Perché ora ne spawnano così tanti Quando li volevano spawnavano Madonna Ragazzi, abbiamo fatto già un botto di livelli Quindi qua nel Nether E sono già respawnati tra l'altro Qua nel Nether potremo fare una mega farm Ma veramente una mega farm Di zombie ragazzotti Cioè, siamo a 30 Siamo praticamente a 30 livelli Però torniamoci a casa Perché non ci interessa ora come ora E vabbè, ma mi seguono anche qua E no, eh E no, eh Non c'è nulla di buono in queste bag tra l'altro Ok Eh, questo Questo non lo conosco ragazzi Ok, no Bisogna tra l'altro fare un giorno Un episodio di apertura Lucky Block Perché Vedete, ci sono delle cose un pochettino strane Tipo questo cos'è Beh, non mi interessa Secondo me, ragazzi In senso, fatemi sapere nei commenti Se volete un episodio di apertura Lucky Block Questo lo memorizziamo No, infatti non l'avevo memorizzato Tra l'altro vediamo È anche una missione oppure no L'unico blu è il Blutonium Beh, è bello Per materiale blu Chiamarlo Blutonium Sul serio Però questo è Mana Steel E vabbò, non ci interessa Ragazzi Prendiamo un End Cake Perché ci sta sempre prenderne un extra E andiamo nell'End Mangiando questo Invece no Perché bisogna prima consumare la fame Intanto, ragazzi Vi spiego il problema più grosso Di quello che dobbiamo andare a fare noi Nell'End E c'è anche scesa la fame Praticamente L'isola Dove appunto Spona al boss Non è A una certa distanza precisa Potrebbe sponare A moltipli di 10.000 Nella coordinata Z O X Appunto Questo cosa vuol dire? Che potrebbe sponare A 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 20.000 0 20.000 10.000 E Oh mio dio Cioè non ha un punto di spawn Ne ha praticamente infiniti E tra l'altro non so nemmeno Quale sia la percentuale di spawn In quel preciso punto Quindi Andiamo a vedere Andiamo a vedere Eccoci qua ragazzotti Eccoci qua Allora Io tecnicamente Non mi sono dimenticato niente Però c'è da dire una cosa Ho paura Cosa vuol dire Che ho paura? Vuol dire che Ragazzi Io in teoria Ho tutto Quindi non mi devo stare A preoccupare delle robe Questa qui intanto È stata Come sono tornato L'altra volta A casa Tra l'altro L'ossidiana Spacco velocemente Sì ma Non è velocissimissima Ok quindi A questo punto F3 Guardiamo le coordinate X Z Perché Y Appunto Quella centrale E l'altezza Perché non sapesse leggere Stanno in alto A sinistra E proviamo Prima di tutto Con un bel X10000 Z0 Che ok È precisamente Da questa parte Ragazzi Siamo già A quasi 500 blocchi Di percorsi Non ci dovremmo mettere Tantissimo Però ci vorrà un pochettino Quindi ovviamente Vi taglio tutto Tanto siamo nell'end Cioè guardate Non c'è nemmeno Animazione di movimento Cioè proprio Il nulla Pixel fermi È tristissimo Ragazzi Cos'è sta roba In realtà se avete l'inventario Mi sono preso un pochettino Di mele dorate E mele dorate OP Dalla Transmutation Cos'è sta roba Ah ma non ricordo Sono i robettini Di Draconium E così possiamo prenderci Direttamente Di Draconium Sì ma no Però questo cos'è Fermi tutti Questo è Resonant Endstone Oh oh che cazzo Oh Cos'è sta roba Ma l'ho presa No non l'ho presa È un liquido Oh oh Questo liquido mi tippa Allora Aspettate un attimo Io ho dei bucket Posso prenderlo Ah no Non me lo fa prendere Non me lo fa prendere Ci dovrà essere un modo Però Per raccattarlo No Facciamo così In modo ignorantissimo Spacchiamo Mi può dare delle robe Ah no Mi ha dato delle robe Però quando si secca Mi dà delle robe Questa roba qui E cos'è ragazzi Perché qua non penso Ci tornerò a breve Sare per fare le Ender Pearl E basta E perché dovrei craftarmi Le Ender Pearl Se le posso prendere A gratis Non Non capisco Cioè praticamente Il liquido mi tippa E poi sparisce Mentre Se spacco il blocco Mi dà questo Ok Va bene Non importa Comunque continuiamo Perché non manca molto Infatti No questa è la direzione Sbagliata Da che parte stava andando Ok E da questa ragazzi Mancano 800 blocchi E vedremo se Il primo traguardo Il primo obiettivo Riusciremo A trovarci l'isola Oppure no Io non penso Perché tra l'altro Ci sono Cioè ragazzi Potrei esponare A qualsiasi coordinata E questa cosa qui Veramente Mi impaurisce Abbastanza Ok Mi stavo No Oh Cos'è Oh Land City Ma siamo arrivati E questo Oh mio dio Allora Land City ragazzi Sponano lo stesso Bene Tra l'altro Non so se sono Sponate anche nel Tragitto Prevenire qui Perché io Ho tenuto Premuto il pulsante Con il moro Ignorantissimo Oggetto E me ne sono andato Ragazzotti Quindi Non so se queste cose C'erano anche Durante il tragitto Comunque Land City A quanto pare Sponano lo stesso Anche se Appunto Non c'è Land Realmente Molto molto buona Abbiamo un'Elytra Uuuuh Guardate Ehi Tu sei cattivo È vero Abbiamo un Dark Bow Che non penso ci interessi Tra l'altro Il piccolo diamante Si piglia Perché ha silitaccio E come incantamento Parebbe servirci L'Elytra Non so se si può craftare Vediamo Ehm No Non si può craftare Quindi È stata un'ottima cosa Prenderla Però non penso Ci servirà qualcosa Land Road Le abbiamo già Questa roba qua Non ci interessa nulla Tranne questo bel protection Che si potrebbe portare a casa E un po' di Endstone Ragazzotti Me la prendo Perché ripeto Anche questa qui Non so se è craftabile Invece si è craftabile Beh io la piglio lo stesso Non mi interessa Non so se ci può essere Qualcos'altro interessante Ragazzi Nel End City Però io comunque Vado a controllare Ah già Ci servirebbero le Shulker Box Tra l'altro cosa che mi ha droppato Cosa è sta robettina Shulker Pearl Ok Ha un valore in MC No non ce l'ha E non ci si può fare un cazzo Ma va benissimo Vediamo da quest'altro lato Beh ragazzi Allora sinceramente Non mi sembra ci sia qualcosa di interessante Da prendere O robe simili Se voi sapete Che nella struttura qua C'è qualcosa di figo Ditemelo Che ci vado a esplorarla Nel prossimo episodio Però dovete dirmelo voi Perché a mio parere Non c'è nulla interessante Comunque Sto lasciando quello Abbiamo realmente ragazzi Trovato quello che volevamo noi Cioè nel senso Questo qui Subito alla prima È quello giusto È il posto in cui dovrebbe stare appunto Il nostro Ender Dragon Un po' modificato Quindi prendiamo subito Un pochettino Di frecce Perché io ne ho già un po' Però sapete com'è Magli averne un pochettino extra E avviciniamoci Non so quanto danno possa fare Non ho veramente la minima idea E eccolo qui Forse alcune cose potrebbero shottarmi Non lo so Mi sa È lui che mi sta sperando Beh sì Che cazzo dovrebbe essere Non mi fa danno Però ok Mi sta abbassando l'armaturina Praticamente ragazzi Vedete che qua Ci sono questi cristalli Penso di doverli farli esplodere Come quelli reali E fanno una luce ragazzi E fanno una luce Mi sta rincorrendo Ah che dolore Ok ok Allora Come al solito ragazzi Prima di tutto Bisogna Distruggere Raffanculo dai Però appena mi avvicino Mi divasta L'armatura fa il suo dovere Mi para tutti i colpi Fino a che appunto Ha rigenerazione Vediamo se riesco a cecchinarlo Uh Attivato E lui si è incazzato ancora di più Porca troia ragazzi Quanto me l'ha abbassata velocemente Sarà dura Sarà molto dura Oh cos'è sta roba Mi stanno a rincorre Mi rincorrono Questi mi rincorrono ragazzi Ma che cazzo è Invece a livello di consumo Mi ha consumato soltanto 500.000 Che è tanto Però noi abbiamo 128 milioni Quindi Non ce ne frega più di tanto Allora a questo punto ragazzi Facciamolo in modo ignorantissimo Avviciniamoci Ok spaccato Spaccato Dai 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 ragazzi Facciamoli tutti a raffica così Facciamoli tutti a raffica È perfetto Perché hanno sempre un pochettino Pensavo di dovermi avvicinare Io Oh Ok Pensavo di dovermi avvicinare Comunque E doverli rompere tipo a mano Invece no Tutto sommato È strafattibile Anche così Almeno per la rottura Perfetto Tra l'altro No l'ho colpito per sbaglio L'ender dragon Ragazzi Lo chiamano ender dragon Ma non si chiama così E mi dice che Devo prima romperli tutti Per Per fargli danno Quindi cioè Nemmeno da dire che gli faccio danno Oh Oh l'armatura Cazzo Cosa è successo raga Cosa è successo Poi perché non sono morto Ah Mi ha consumato tantissimo No Raga Fermi tutti Fermi tutti Quando lo scudo si abbassa Mi consuma tantissimo L'energia Prima di uccidermi Oh mio dio Mi ha consumato in pochissimi Secondo milioni e milioni Di RF Raga In pochissimi secondi Milioni e milioni Di RF Consumati Cazzo E la melopin Non poteva più fare nulla A quel punto Però ragazzi Io non ho capito Quali ho rotto E quali no Perché il fascio sopra Non è rimasto Ok Questo non era rotto Vediamo se Ok no ragazzi Mamma mia Quanto me l'ha abbassato Va bene Non gli ho fatto danno Perché mi dice che Ce n'è ancora qualcuno Da rompere Uh Che fatica Che fatica Ok E lui torna Ogni volta che li attacco Torna E non gli posso fare Ancora danno Olle Quanti ne avevo lasciati Porca troia Abbiamo ancora 144 milioni Di RF Ragazzi Un attacco suo diretto Ci potrebbe distruggere Come si è visto prima Una finaccheggia Andiamo cauti Resistiamo Vittemi che è l'ultimo Vi prego Vittemi che è l'ultimo Ragazzi È impossibile È impossibile Questo cavolo di boss Veramente ragazzi È una cosa assurda Ho scoperto tra l'altro Che c'erano altri cristalli Al centro Ma mi rincorre Ma cosa devo fare io Ci sono ancora altri cristalli Ma com'è possibile Che ci sono altri cristalli E dirrutti Vintimila Ragazzi Allora voi Probabilmente non avetevi sotto Il pezzo Ovviamente Ma io sono qui Da qualcosa come Trenta minuti A cercare di levare Ogni cristallo Senza morire E da trenta minuti Che sto cercando Di rimuovere i cristalli E non ci sono ancora riuscito E no 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 Fermo 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 Quei erano i disintegri 500 di scudo Me l'ha rimasto Poi morivo Il fatto non è nemmeno a dire buono Si è attaccato a quello Io vorrei dire Quello è ancora attivo No Non è ancora attivo Quello Quello l'ho già distrutto Ah Che difficoltà No Stai tranquillo Stai tranquillo Ho detto Stai tranquillo Ma come posso schivarlo Sono morto Sono morto Sono morto No Mi ha lasciato a zero Mi ha lasciato completamente a zero Ok Si sta rigenerando Non so come L'armatura sta utilizzando Ah C'ho ancora un milioncino Non No Ragazzi Io ci muoio Non posso Io Io ci muoio C'è Purtroppo È già impossibile Riuscire a levare i cristalli Fa Fa tipo Troppo Troppo danno Seriamente Non 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 sono in grado Ma poi tra l'altro La mia armatura è buona Ma non regge abbastanza Cosa cazzo dovrei avere Per sconfiggere un boss simile Non va bene nulla Ragazzi Non va bene nulla Vedete C'erano questi cristalli qui Esterni E poi ho visto prima Che ce n'erano altri interni qua Però Il fatto è che Li ho già levati tutti Ora lui invece Mi sta già attaccando Ok La pallina Queste qua si schivano No non è vero Mi rincorrono Anche queste Mi rincorrono Anche queste Ragazzi Vedete Ogni cosa che lancio Guardate Mi rincorre Mi rincorre È un colpo sicuro Sono colpi sicuri Guardate Sono colpi sicuri Mi inseguono Vabbè Facciamoci colpire Tanto è inutile scappare Per poi prendersi tutti A raffica Quindi È troppo Ragazzi È troppo Questo boss Eh no È niente Ed ecco ne altri E stavolta Fanno anche male Stavolta Fanno malissimo Ragazzi Ho finito l'energia Ho finito l'energia Me ne stanno arrivando altri L'ho Completamente finita ora È la fine ragazzi Vi saluto Ciao Eh non Eh no Non posso nemmeno schivarli Quelli Cioè ragazzi Vi rendete conto Non posso nemmeno schivarli Io posso capire Bon Ci vai da abilità L'abilità Schivi i colpi E ce la fai sconfiggere Se sei scarto Non ce la fai Se sei bravo Ce la fai No Ti ricordo Ti colpiranno sicuramente Ti colpiranno sicuramente Non ha senso Non ha senso Io ragazzi Eh Veramente Non so che dirvi Ho scaricato completamente l'armatura C'è poco da fare Non so Se ci tornerò A breve Nell'end Per riaffrontarlo Almeno sappiamo dove è la struttura Ragazzotti Fatemi sapere voi Come fare Perché io ve lo giuro Non ne ho alla minima idea Cioè Seriamente Come posso sconfiggerlo Non lo so Consigliatemi qualcosa Perché io Ho un po' di carenze In questo momento Fa troppo male E anche dove si fargli danno io Non sono mai riuscito a fargli danno Perché c'è una cosa Tutti i cristallini intorno Mi sarebbe un'armatura migliore Ma Migliore di questa? La velo dura Non posso Potrei mettere tutto in draconic A livello di incantamenti Lo scudo Rigenerazione scudo E tutto Ma Sarebbe un reale vantaggio Farebbe così tanto la differenza Secondo me No Però Fatemi sapere voi ragazzotti Dette questo È finito malissimo Spero comunque che vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti